a rieccoci come vi avevo promesso un attimo che vado a chiudere la porta altrimenti non si capisce una fava un attimo un attimo un attimo boys un attimo un attimo boys purtroppo quando si hanno i bambini è così ecco qua un attimo boys un attimo boys dove eravamo rimasti come vi avevo promesso faccio un video sul ritorno il prossimo novembre del gran premio di imola sotto denominazione di gran premio dell'emilia romagna torna a imola dopo 14 anni mancava nel 2006 uno quando narra imola forse addirittura più di monza parla della storia della formula 1 e dei motori in genere raccontare i gran premi di imola è un viaggio è un viaggio che in breve vorrei un viaggio affascinante e drammatico per le note vicende che sono successe nel 94 ma imola non è solo 1994 allora imola dopo un gran premio non ufficiale disputato nel 79 è vinto da lauda falso esordio nel circuit nel nella formula 1 moderna diciamo nel settembre 1980 come gran premio d'italia sostituendo temporaneamente il gran premio di monza non so con quali motivazioni ero troppo giovane e già da questa prima edizione e già c'è da notare già non solo da quella prima edizione ma proprio dal 1980 perché le gare disputate a imola nel 1980 per la formula 1 la gara di formula 1 ricordata per lo spaventoso incidente di gilby lov da quale uscì incredibilmente il leso ragazzi tanto per farvene un'idea è una dinamica l'incidente alla tosa mi sa sia la prima della tosa è un incidente che come dinamica ricorda maledettamente quello di l'alzenberger tanto per dirvi cosa rischiò nel 1980 gilby lov non solo ma sempre nel 1980 se non sbaglio stava per lasciarci le penne graziano rossi per chi non sa chi non lo sa chi non lo sa chi è graziano rossi è il papà ex corridore della 250 è il papà di valentino che ebbe un incidente nel 1980 mi sa proprio nella stessa sempre la tosa mi sa poi la storia di imola la storia di imola ci narra anche della rottura nell'82 fra villeneuve e pironi dove la ferrari che quell'anno partiva favorita per il mondiale ma è l'anno anche delle polemiche fra i team inglesi team italiani e francesi per non ricordo per cosa difatti nell'82 corsero solo italiani e francesi team italiani e francesi a ferrari renulici alfa romeo corsero o sella corsero solo questi team qua ed è fu l'anno in cui ci fu la rottura fra villeneuve e pironi villeneuve era in testa dai box fu ordinato di mantenere le posizioni con un cartello slow perché non è che poteva dire congelate le posizioni disse lo slow piano per pironi interpretò quello slow a modo suo e ci fu la grande polemica ci fu la rottura fra i due pironi vinse la gara in modo completamente sleale e villeneuve gliela giuro solo che purtroppo il successivo weekend quello in belgio fu il weekend weekend di gara fu il weekend dell'incidente di Isolder e della morte di Gilles Villeneuve ecco questo è per il buon gil la pista di Imola ha rappresentato ricordi non bellissimi va poi allora facciamo un salto di qualche anno magari ricordando una vittoria di Elio De Angelis nell'85 per la squalifica di Prost se non sbaglio facciamo un salto e arriviamo al 1989 voi della storia Prost Senna molti sanno dell'incidente di Suzuka molti sanno degli incidenti di Suzuka della rivalità Prost Senna pochi sanno che quella rivalità nacque a Imola nacque a Imola e non me ne vogliano ma lì aveva Torto Senna perché aveva Torto Senna lì in pratica fra i due McLaren che erano i dominatori assoluti di quegli anni c'era questo accordo dei due per onde evitare incidenti chi arriva, chi dopo la partenza arriva prima la prima curva ci resta ok ora non ricordo come andò perché lì poi la gara fu sospesa per l'incidente di Berger se non ricordo male mi sa che la prima partenza ci arrivò Senna alla Tosa in vantaggio ci arrivò Senna se non ricordo male correggetemi se sbaglio poi ci fu il drammatico incidente di Berger al tamburello alla curva del tamburello Berger che fu letteralmente estratto dalle fiamme della sua Ferrari dai ragazzi della CEA famoso questo incidente e la gara fu sospesa e ci fu una seconda partenza fu congelato le posizioni e ci fu una seconda partenza sempre Senna davanti e Prost secondo partono stavolta parte meglio Prost che arriva alla prima curva in testa non so se subito o a giro seguente Senna non rispetta il patto e passa davanti a Prost lì è la rottura ora Senna interpretò la seconda partenza non come una partenza vera e propria ma come una consecuzio del Gran Premio come una fase di gara invece Prost la interpretò come una nuova tutti gli effetti come una nuova partenza ecco lì secondo me più che incolpare Senna lì incolperei il team perché il team avrebbe dovuto dare delle direttive e lì secondo me sbaglio il buon Ron Dennis a non impartire delle direttive ai suoi piloti però anche perché chi ha ragione per me ha ragione per me ha ragione Prost anche perché se uno mi congela le posizioni non può mai essere se uno mi congela le posizioni mi fa ripartire cioè che senso che so magari non su Senna che so tu con la ripartenza mi annulli io Prost che sono secondo mi annulli l'enorme vantaggio un vantaggio che ho sulla terza quindi tu a me tu mi penalizzi tu mi penalizzi e quindi a tutti gli effetti una nuova partenza non devi considerarla come una consecuzione di gara ma sono delle sottigliezze talmente sì io tenderei a dare ragione a Prost ma lì chi ha più torto è il team che avrebbe dovuto impartire delle direttive e veniamo a Imola a Imola nel 91 parlo sempre di Prost lì poi ci fu la rottura con Senna con quello che è successo in Giappone nell'89 nel 90 lì poi che è successo si arriva a Imola la Ferrari Prost appena perso nel 90 perde il mondiale a Suzuka per l'incidente con Senna con la Ferrari nel 91 Senna parte che è una bellezza Prost gli resiste arrivando secondo nella prima gara se non sbaglio e poi perde contatto la Ferrari perde contatto venendo superata anche dalle Williams Renaud diciamo come competitività si arriva a Imola dove addirittura Prost va fuori pista nel giro di formazione cioè un'onta lì praticamente si può dire che si consumò il divorzio con la Ferrari e cominciarono anni bui anni veramente bui per la Ferrari e poi si arriva al 94 dove tutti sapete cosa è successo è inutile che vi ho storia a ricordare da allora poi ci furono le modifiche anche perché quella curva Tamburello era una curva molto pericolosa molto pericolosa soprattutto con le nuove regole perché è una curva dove il punto di corda non lo riesci a vedere finché non arrivi al punto dove proprio andò a sbattere Senne era una curva velocissima si percorreva quasi a 300 e non riusciva a prendere bene il punto di corda ecco perché tanti incidenti Berger Piqué prima del 94 e poi ci sono le modifiche fu messa la chicane alla curva del Tamburello perché non potendo fare modifiche che c'era il fiume proprio dove andò a sbattere Senne allora si volle magari limitare la velocità inserendo una chicane poco dopo la partenza inserendo una chicane poco dopo la partenza poi il punto fu diciamo fu eliminata la chicane delle acque minerali fu messa una curva più o meno veloce una doppia curva più o meno veloce insomma furono fatte delle modifiche un po' un po' così furono fatte delle modifiche Imola cos'altro ci dobbiamo ricordare di Imola il 98 il Gran Premio del 98 vinto da Coulthard davanti se non sbaglio proprio a Schumacher quando tutte le macchine tutte le vetture si presentarono con quello stranissimo alettone andate a vedere su youtube che cazzo misero sulle macchine una specie di di appendice aerodinamica che faceva veramente ridere sembrava il manico di un secchio sembrava cioè andate a vedere che cazzo ci misero sulle vetture non lo so non il manico di un secchio due come due specchietti simili specchietti due appendice aerodinamiche davvero curiosissime tra l'altro fu un Gran Premio molto noioso e vabbè il 98 poi se arriviamo poi ci sono i successi di Schumacher nel 99 nel 2000 nel 2002 nel 2003 nel 2004 nel 2006 prima dell'interruzione diciamo diciamo che dal 94 in poi Imola è stata un po' casa di Schumacher mi sa che nel 97 vinse Frenzen se non sbaglio a Imola nel 98 Cultard nel 2001 ci fu la prima vittoria Schumacher si ritirò per noi e meccaniche ma tra l'altro non stava facendo neanche bene nel 2001 ci fu la prima vittoria dalla Williams BMW di Ralph Schumacher la prima vittoria di Ralph Schumacher che arrivò primo davanti a Coulthard ma dominando letteralmente la gara con la Williams che in rettilineo con le gomme Michelin volava poi c'è il famoso 2003 con Michele e Ralph Schumacher sul podio il giorno dopo la morte della loro mamma lì fu una cosa triste un podio triste fu quello là a poche ore dalla scomparsa della mamma Michele e Ralph andarono sul podio di Imola nel 2003 tra l'altro mi sa che quella fu la prima vittoria nel 2003 che ebbe un inizio stentato poi si riprese poi ebbe problemi in estate con le gomme Michelin con quel caldo anomalo tremendo che favoriva di brutto le Michelin le vetture gommate Michelin salvo poi riprendersi da dopo Monza in poi o dal Belgio non ricordo non ricordo se dal Belgio o da Monni sa dal Belgio ora non ricordo bene e poi c'è nel 2005 l'assalto una Ferrari nata male finita peggio quell'anno ma diciamo che la migliore gara fu proprio a Imola la F2005 dove mi sa che esordiva in quella gara la nuova pettura dove fino all'ultimo tentò di sopravvanzare Alonso ma lì fu bravo Alonso a contenere Schumacher perché ci aveva appiccicato dietro da svariati giri ecco Imola negli ultimi 40 anni di gare secondo me abbiamo visto più cose di Monza e più ricordata di Monza ci sono stati più più eventi drammatici rotture liti fra piloti gare memorabili trionfi sconfitte morti purtroppo morti e incidenti però io come dico sempre io preferisco Imola preferisco Imola a Gran Premi dove neanche neanche Cristo si ricorda che esiste vedi l'Azerbaijan vedi Bahrein Abu Dhabi cosa sono questi cazzo di piste ma ridateci Imola ridateci il bello di questo campionato vabbè non c'è lotta perché c'è Hamilton che ha praticamente già distrutto tutti e va bene il bello di questo mondiale di Formula 1 è che stiamo riscoprendo piste classiche che avevamo dimenticato si torna in Portogallo quest'anno si va a Portimao Portimao che più che altro ospitava la Superbike negli ultimi anni il Nürburgring mi sa che torna a Nürburgring e comunque il ritorno di Imola non può che far piacere ai tanti appassionati di Formula 1 raga lasciate un like iscrivetevi al canale per i video ci si vede stasera per Juve Sampdoria sperando di festeggiare sto cazzo di scudetto stasera dai dai stasera lo festeggiamo dai ciao raga ciao